PER IL POTERE DIL GARDI È doppio Senti, mi ritorna dopo Oggi siamo doppi Finalissima Sento un sacco di eco Allora, oggi c'è la finalissima Io e te ci sfidiamo a verità o bugia E poi lo facciamo tutti quanti insieme Che asfalto Prova Eeeh Aiu Probabilmente è come l'altra volta Secondo me a casa sentono bene Sicuro Forse a casa sentono bene Ma sono rallentatissimo Perché sento l'eco Possiamo usare le cuffie Oggi Oggi C'è la finalissima Di verità o bugia È vero, cavolo Bravo No? Sì Sì, sì Ok Ok Dove io e Cesare Facciamo la finalissima E poi tutti quanti insieme Rifacciamo altri giri, no? Facciamo altri giri Altri giri Un po' di giri All'round Sì, giusto Perché oggi No Cosa è stato che abbiamo perso miseramente? Eh? Oggi è uscito il video Ok, perfetto Ma quando è che l'abbia registrato? È un mese fa secondo me Sì, un mese No, così tanto No, se volete lo scopro Ma scusate, è la prima volta Adesso lo scopro Scusate, è la prima volta Che uso il tablet Devo toglierli io i commenti No, no, vanno via da soli Vanno loro Vanno via da soli La cosa figa di questa sfida È che la facciamo Con 30 gradi Nello studio Che era una cosa Sono 28 28, tu sei sicuro Di questa cosa qua? Guarda Mi sembrava No, no, no Eh, vedi? No, no Non puoi Non puoi Ma perché non posso? Ma allora Secondo me Adesso Sfattiamo questa cosa Ma perché non posso alzarmi? Ho dei pantaloncini Ha dei pantaloncini Da jogging Che sembrano Molte delle mutande E sono super aderenti Si vede tutto Ma chi è cosa Della mutande? Secondo me non si vede Ma scusa E poi sono dei normali pantaloncini Se mi metto un palettone davanti Col palettone Ma se vuoi ci vado io Ci vado io Vediamo Vediamo Intanto vi posso dire Che l'abbiamo registrato Non ero pronto Verità o bugia? Il 25 maggio 25 maggio? 25 maggio Però Siamo quasi un mese Sai che il movimento della paletta Mi ha fatto un gran vento Figo 28 gradi Bello Si può fare un po' così Ma sai che non è male? Allora Ragazzi La cosa interessante Della sfida di Mi avete arrivato la paletta? Vabbè dopo te la vediamo Ah sono sempre quattro La cosa interessante Della puntata di oggi È che Non giocheremo soltanto noi Ma potranno giocare anche a casa Perché come chiede A casa non giocano Chiede Serena Ma noi non vedremo la box Giusto? Voglio provare a indovinare anche io Eh no Giocherete anche voi Ogni volta che qualcuno Starà dicendo la verità Una bugia Partirà un sondaggio In chat Dove anche voi Che state guardando Potrete esprimere Una preferenza Secondo voi che cosa Basta Mi avrebbe fatto molto piacere Avere un po' Qualcuno che mi sventaglia Spieghiamo come funziona il format Perché magari qualcuno È qui e non ha mai visto i video YouTube Prego Allora praticamente A turno Ci arriverà una box Che conterrà un oggetto Da noi scelto Questo oggetto qua Potremmo decidere Di descriverlo È difficilissimo Spiegare la roba così No no Ce la faccio Ce la faccio Potremmo decidere Di descrivere questo oggetto Quindi dicendo La verità Oppure potremmo Mentire totalmente Mentiroso Tiro in una bugia E gli altri dovranno capire Se stiamo mentendo O se stiamo dicendo la verità Sì è tutto un gioco Di cercare È tutto basato Sul cercare di leggere Sì Quello che sta facendo l'altro Più che Cioè non bisogna indovinare l'oggetto Ok bisogna cercare di capire Le emozioni Della persona Dell'altra persona Sì E abbiamo scoperto che Nick In questo gioco è pazzesco Perché ha mentito Fin dall'età di tre anni Ai suoi genitori Alla sua famiglia Ai suoi amici Veramente Sì Non l'avrei mai detto Eh tipo qua Stai già mentendo Ah comunque Staremo armati di palette Quando penseremo Che sta dicendo la verità Alzeremo il colore verde Il colore verde Quando penseremo Che sta mentendo Il colore rosso Adesso Quello che ci stavamo Chiedendo prima È se questa Se questa puntata È podcastabile Perché? Ah è vero Non so se può andare Dobbiamo essere bravi noi Quando alziamo le palette A dire alzo il rosso Alzo il verde Perché sennò a casa Sì sì tranquillamente Poi ci scorderemo Ma sì un po' cazzilore Da casa solo audio podcast Che vengano qui È ancora più difficile Perché non hai neanche le espressioni facciali Devi basarti tutto sul Tutto sulla voce Ma anche Eddie che lo monta Lui va solo audio Ok Quindi deve capire lui Sì perché alla fine Eddie ci dice Da un feed Che sta capendo Comunque ho scoperto Una roba interessantissima Ieri ho visto un tizio Che dirigeva il traffico Un E aveva proprio quelle E aveva proprio queste Sì sì sono queste Posso dire che non sono mai autorizzati Sono illegalissimi Ma noi diciamo L'abbiamo stordito Cinque dirigenti Sarebbe stato figo Sarebbe stato figo Ma secondo voi Non è da fare un esperimento sociale Ma secondo me funziona Pettorina Va in strada Si a fare così È quello che fanno Comunque tutti quelli Che fanno i lavori Per strada Si mettono a pettorina Iniziano a fare Ma sai che io Ho avuto un periodo In cui volevo diventare Un writer famosissimo Ok E solo che fare graffiti Per la città illegale Non un writer Un writer famoso Un writer famosissimo Anche writer legali No Però secondo me Nel momento in cui diventi legale Non sai più Non ha più senso Pensavo Nei miei piani diabolici Di comprarmi la pettorina Il caschetto Di andare Magari nelle zone In cui stavano facendo i lavori Per andare a graffitare C'è come se sembrassero Camuffato Sì Però poi dopo Quando fai degli scarabocchi Cioè dei graffiti Si capisce che non sei un operaio Eh no perché Quando arrivano Io dico Li sto coprendo Attento però perché Se ti teccano Poi te li fanno pulire tutti Mi ricordo quando andavo A matematica C'era sempre questo ragazzo Che puliva tutto E era tristissimo Da noi all'artistico Era diventato famosissimo Inocchi Perché l'avevano sgamato Alle 5 del mattino A Chiesa Nuova A fare un graffito gigantesco A dove a Chiesa Nuova È diventata famosa In cima Nel parco in cima Nel muretto Ah sì ok presente È un parco qui di Bologna Nella chiesa Dove andavamo a fare estate ragazze Sì Tanto il nome è Chiesa Nuova Che non ho mai capito Perché è moderna Tipo Ci fanno skate sul tetto Perché sembra un Illegalmente Sì legalmente Perfetto E comunque E quindi lui è diventato famoso Perché graffittava Vabbè era già famoso No era già famoso Per il rap Per la vita di strada E poi vabbè Quello è un bonus Sì Oggi Speku è arrabbiato Speku è arrabbiato Perché è arrabbiato Perché nelle sfide di gruppo Perdo sempre E quindi metto Non è che perdi sempre Semplicemente noi manipoliamo Il gioco perché tu perda Ma tipo in tutte le Spade spalle E la gente si incazza per questo No ma Verità o bugia È un gioco democratico Dove vince la bravura Nel saper mentire Ma lo stai dicendo soltanto Perché potresti vincere tu Perché Non lo so Non lo so L'hai detto a caso L'ho detto a caso Guardami un attimo Ma È una caccola Non è vero Però bravo Guarda che Non tutti gli amici Ti fanno notare le caccola È una roba che Ho notato La roba tra i denti La roba tra i denti La roba tra le sopracciglia Se hai un cosetto Tipo Ieri Per esempio Abbiamo fatto quella cena insieme Hai avuto per tutta la cena Un cosetto bianco Qua Non gliel'hai detto Non gliel'ho detto Infatti mi sono sentito Un amico di merda Non sapevo come dirtelo Ma si sente bene Guarda delle cuffie No però Io lo tengo lo stesso Che mi fa schifo Farlo senza Senza musica Tipo senti tutto piano Però è tutto più tranquillo Cioè nel senso È che non sembra di essere in live Non sembra di essere in live Sembra di Cioè Però mi piace a me Cioè mi viene meno Da essere attivo Senza cuffie Sai che adesso A me Nick ci scambiamo dei bacini Perché abbiamo fatto Stacca il cavo Ah ma non le voglio tenere spente Ah così per sport Senti anche meno Ma che te frena No volevo dire che se a volte Io e Nick ci mangiamo dei bacini È perché abbiamo capito Che nella nostra vita Non abbiamo abbastanza affetto E quindi abbiamo rimediato così E ci Ci piace un po' Sì ci compensa Un po' di cose Ma solo bacini o No solo bacini Solo bacini Da capire I gesti di affetto In generale Oh Oh Te ne ho dati tre Basta Però dovevo un po' Mi metterli Si può avere un cuore Tra i due Da tonno Da tonno Che vuol dire Dovremmo fare una nuova grafica Una nuova composizione Che mette insieme Tonno e Nick Ma tipo Con tanti cuori in mezzo Fico Bello Lo vorrei Ma quindi abbiamo le grafiche nuove No Le abbiamo ma non le abbiamo Sì era una frecciatina C'è da dire Che forse su Twitch Italia Si agli unici a far poppare Delle grafiche Dai Vaffanculo È vero Dammi un esempio Dammi le prove Mambo Se di gente se le ha Dai Dimmi Allora Questa è anche la prima volta Ci dovete far sapere Anche se vi piace o no Che Intersechiamo YouTube e Twitch Nel senso che abbiamo fatto Un video su YouTube oggi Che era verità o bugia Di gruppo La prima volta che lo facevano Di gruppo È stato molto divertente E la finale abbiamo deciso Di farla su Twitch E non solo Abbiamo deciso anche Di provare a portare Per la prima volta Un gioco di gruppo In live Nel senso che faremo Altri round Qui in diretta E vorremmo anche provare In realtà questa la sto improvvisando A portare dei giochi da tavolo Io tipo Ho comprato Ho comprato Un gioco da tavolo Ma sono troppo lenti Cos'hai comprato? Si chiama Si oscuro signore Che è fighissimo Ma quando hai detto Ma seriamente? L'ho preso qualche giorno fa Ma per i cazzi tuoi Ma tu non caghi mai Sì Ma per i cazzi miei Ed è fighissimo Cioè praticamente Uno fa lo scuro signore In questo caso Naturalmente sarà Frank E tutti gli altri Fanno i goblin Che devono giustificare Una missione fallita Ma è perfetto Ma è perfetto questo gioco È perfetto È perfetto Infatti Capiremo come portarlo Basta Ci giocheremo E speriamo che vi piaccia Più che altro Questo format Di intersecare i video Perché abbiamo già fatto un altro Ah sì Abbiamo già fatti tre Volendo due Ma il secondo Abbiamo detto Hot like Ci sta Però speriamo Ma e poi senza farlo apposta Perché tutte le spiegi Viene naturale Per casualità Finiscono in pareggio Quindi diciamo Spostiamo la finale Sì sì Dopo un po' di c Perché il video ormai Sta durando Sì esatto Dici due palle E quindi dici due palle Andiamo su Twitch Va bene Prima di partire Vi interrompo Con un commento di Mati Che dice Ma si possono regalare Gli abbonamenti Assolutamente Certo c'è la possibilità Se siete già abbonati Di regalare abbonamenti A chi volete Quanti volete La regia Urlando Mi può ricordare Il tizio che ne ha regalati Un botto È Perez Me lo ricordo Ha appena donato Altri dieci Tantissimi Un record 70 anni Quindi superato Ne ha regalati 70 Ho capito 70 anni Grande Perez È veramente un grande Ma è figa sta cosa Che per parlare Deve uscire Mi piace Io preferirei sentire In cuffia È figo Ci sarebbe ottenuto Una telecamera Sulla porta Io sono felicissimo Perché io dall'inizio Di Yak di Yak Ho sempre detto Non vorrei avere le cuffie Perché le cuffie Mi isolano troppo Ma no È un'esperienza nuova Io contrario Io sono meno attivo Sono carichissimo Ma sembri finto Sembri te Sembri fake Ma perché non c'è Non lo so Non te lo so spiegare Non sarebbe avere un po' di musica Mi stai dando del falso Agli occhi spiritati Agli occhi spiritati adesso Ma non capisco Ma c'è qualcosa Che mi sembra surreale In questo momento Sì anche a me Il compromesso sarebbe Gli auricolari Così Sicuramente Mi piace E non cuffie Stacca il cavo Così non ti dà un costito Non lo so Bisognerebbe riavviare V-Mix Ah interessante Però non credo Ma non credo lo faremo Comunque io vorrei fare Cioè adesso Dobbiamo iniziare in fretta Abbiamo delle esperienze Oh Dio dobbiamo fare 18 milioni No ok Sarebbe bello finire Ok faccio velocissimo Mi sta un botto Sulle palle Sì Il fatto che io ho Bafferato per capire Come non dire una parolaccia Poi hai detto Mi sta sulle palle Beh le palle Non è una parolaccia È molto elegante Non è molto elegante Vabbè Testicoli Sulla sacca scrotale Perfetto Questo è ancora Ma proprio È scientifico però Ho dei pantaloncini Da corsa Perché non posso mostrarli Per me puoi Per me puoi Sapete perché è strano Perché senza cuffie Sembra un salotto Sì siamo un salotto Siamo un salottino Quindi ti viene da parlare Però ci vediamo tutti Finalmente Nicolás Non è tutto il tempo girato Di schiena Cioè sei molto più attivo Secondo me Sì 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 Ah cavolo Devo guardare i niente Un po' è anche il ceppo Che non avendolo Forse lo all'ottiva di più Troppi Troppi Scusami scusami Allora io direi di iniziare Forse col primo oggetto Ah per stavo Dove si installa I commenti sui No mi sta solo Sulle palle Pronto? Cioè devo avere il dubbio Che questi pantaloncini Non vadano bene per qui Sì sì Ma non sono i mutande Dovremmo fare una video call Con la persona Che ci segue di Twitch Sarebbe finissimo In cui Tonno sfoggia Tutti i suoi vestiti Sarebbe bello E li proviamo Altri 20 donati da Perez Perez Ma non è che è il calciatore Sembrano dei gol Pazzesco Altri 20 Grazie Perez Forse anche un pilota Anche a me mi dice qualcosa Adesso non c'è lo sconto No forse quello Ah lo sconto sui No quello è per chi ha Prime Per Anche Knight Ma Zia Knight Zia Knight Stiamo ancora usando la sua Macchina di caffè Perché tu non lo sai Ma Zia Knight Sì a caso Sì si regalava sempre Ma che vuoi Io so tutto Vabbè magari Io so tutto Praticamente ci mantenevo Vabbè Forse dovremmo partire Oltre a sudare Io partirei Sì Allora La prima partita Che ci sarà oggi Sarà la finale Di quello che abbiamo fatto su YouTube Quindi Cesare Contro Nicolas Esatto Nicolas può avvantaggiarsi Del fatto che Cesare È incazzato per le cuffie Sì si si Noi tre Non voteremo Non voteremo No noi non dobbiamo votare Perché è una finalona Tra loro due Non dobbiamo votare Nella finalona no No nella finalona no Eh? No nella finalona no Nella finalona no Io contro di lui Voi dopo Voteremo Possiamo che potete commentare Allora togliamo le palette Che fanno disordine Sì è bella Lancia la via fortissima Ma parto Parto io Parte Nick però Guarda come preferisci te Caro Parte Nick però Che Cesare ha già la paletta Guarda Sì parte Perché Però attendo perché Tu hai dimostrato Di necessitare Di un po' di riscaldamento Nelle manche Cioè te si carburi Un po' dopo Possiamo E' vero E' vero E' vero Allora iniziamo Facciamo entrare il primo oggetto Ciao Riccardo Ciao Riccardino Il nostro valletto Piano Riccardino ci ha messo 20 anni per mettere Quella box sopra il carrellino Perché come vedete Perché non è in tuta di spandex Perché doveva essere in tuta di spandex Il nostro valletto Lo volevo spandex Allora mettiamo la scatola vicino a Nicholas Perché ricordiamo Nicholas potrà interagire con l'oggetto Se è richiesto da Cesare Se è richiesto da Cesare Ma in realtà Può decidere Nicholas Cioè può decidere anche di non toccare l'oggetto Questa è una regola che ti sei inventato Nel video di oggi Così a caso Nicholas ti può dare dei dettagli Ma i dettagli che vuole lui Ok Ma Nicola cosa è successo Nicola Nicola sta andando nel pozzo E non si sfida ragazzi Quanta sfiducia nei confronti della regina Si è rivaltato il foglio bianco Il foglio bianco Il foglio bianco Il foglio bianco Vabbè dai pinizia Ok ok Allora Nicholas sceglierà se dire la verità o una bugia E partirà a raccontare Hai già scelto però L'ho già scelto caro Quanto sempre fa l'hai scelto? L'ho scelto Ah c'avevamo un jingle Ah c'è Anche senza musica non l'abbiamo Ah c'era un jingle Figo Prima di venire qua l'ho scelto Prima di venire qua Allora Nic descrivimi il tuo oggetto Fissandomi negli occhi però Nic Perché l'ultima volta Eri lì che abbassavi lo sguardo Continuavi a deviare Vai sereno Tanto l'ultima volta ho vinto Quindi L'ultima volta non hai vinto È stato un pareggio C'è stato un pareggio Sei io e te Quindi Prendo spunto Da quello che tu hai fatto l'ultima volta Ho creato anche io una composizione Uuuu Interessante La mia composizione è composta da Una paperella di gomma Piccola Colore? Colore giallo Beh non è così ovvio Ma è scontato Hai una gomma piccola Tipicamente giallo Ok Una tazzina del caffè Con al suo interno Una formica Del formicaio di tonno No fra No 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 Veramente Ci ho messo Il grasso intorno alla tazzina Così che lei non possa scappare Ma è viva? Certo che è viva Ma come l'hai presa? Ieri abbiamo sistemato il formicaio Una cosa che poi vedrete su Around in futuro Ok Guarda se gli hai fatto del male No no l'ho presa L'ho presa L'ho presa L'ho presa Per circondare la formica L'ho presa dalla cassetta degli attrezzi Dietro il set In che senso? Nella cassetta degli attrezzi Dietro il set C'è la bottiglietta di grasso Che abbiamo usato Bottiglietta di grasso? L'ho presa per le formiche ieri Bottiglietta Di quelle tipo Da spremere Tipo tubo della maionese Esatto Che ci puoi lubrificare di tutto Con quello Ah Ah non so Tipo la catena della bici Ah è grasso per catene Sì è grasso per catene Scusate Se è suonato un po' male In realtà è edibile Edibile? Cioè ci crei le case? No no Non lo puoi mangiare Quello è edificabile Quello è edificabile Vuoi una fetta di pane Nick? Che vuoi provare Allora La formica invece dove l'hai presa? Dal formicaio Come l'hai presa? Voglio sapere L'ho presa prima con le mani Con la sedia sul dito E poi l'ho messa dentro la tazzina Ma tu odi le formiche È vero Tu odi le formiche Odio le formiche Le do i cricchi se le vedo O le pesti Le pesti come stamattina Le pesti Nell'altro studio Non sono delle formiche addomesticate Come queste Le ho pessate Perché mi hanno dato fastidio Ma spiegami però un attimo una cosa Perché non capisco Tu hai Tu hai una paperella Ok La paperella com'è fatta? Cioè la tazzina sta al suo interno? No Sono separate Cioè la paperella E la tazzina Cioè sono scollegate Non è È una composizione Astratta È una composizione astratta Ma non ha un significato però Non che le tue avessero significato O adesso Il peso della merda Non aveva significato La propensione d'argomento Una paperella E una tazzina Con dentro una formica Non deve avere significato No ma è perché Semplicemente Pensavo avessi Animale piccolo Animale piccolo Ok ma pensavo tu avessi messo La tazzina dentro la paperella Sono separate Non c'è nessun nesso Fra le due cose Le tre cose Sono collegate Fisicamente Ma è la mia composizione Tu non puoi Giudicare Giudicare I valori La tazzina di che colore è? La tazzina è Se non sbaglio rosa Se non sbaglio Se non sbaglio rosa Quindi come quelle dello studio Se non sbaglio Deve controllare la tazzina La tazzina rosa dello studio Posso interrompere un secondo? Deve controllare la tazzina Ma vabbè Vengo Ma mai a fare la telefonata fuori Ma scusa Ti pare Deve fare una telefonata Un secondo Ma con noi? Ma stai chiamando qualcuno Di importante? Il tecnico del condizionatore Non me l'aspetto No quello già chiamato È andato a casa Pischè Se non mandi dei commenti Io che cazzo di commenti mando In diretta Ho una volta a CalTablet Guarda che reazione Cioè tu Fai Stai gestendo un sacco di cose Tutti insieme Ma lo cantona pure Lui si domanda perché Dopo lo odiano Ma veramente Ma quello è l'acqua Scusa Aspetto Anzi Manda lì direttamente tu Io li guardo dopo Ma poi queste cose Non te le puoi risolvere Ma scusa Ma infatti Ma vai fuori un'altra Ma noi abbiamo sempre Selezionati dalla chat Ma infatti Hai interrotto un duello Che era tesissimo Per chi non Non avesse capito Nelson ha appena chiamato Il nostro mod Capo mod Dei commenti Sì Non sta facendo il suo lavoro Ma poverino Perfetto Comunque continuate pure Allora tu sai Che a questo gioco Non esistono le mezze verità E nemmeno le mezze bugie Quindi qualora ci fosse veramente la tazzina con la formica Cosa che secondo me è molto probabile Ma non ci fosse la paperella Sarebbe tutto in vacca Deve essere o tutto giusto o tutto sbagliato Non è che puoi aver mentito Sul colore della tazzina Ovviamente no Ovviamente no Noi siamo come Per mettere un po' di pepe Però io posso aver mentito Pepe bianco o nero Sulla formica Pepe No Pepe del sesso anno Allora fammi parlare un attimo Sesso anno Noi siamo come il Commonwealth Ok Quindi facciamo la legislazione In base alle cose che avvengono Ci fu questo precedente caso In un vecchio Identico In cui Scempio Si menti Unicamente su un colore Sì è vero E lì La giurisdizione decise Di bandire questa cosa E renderla illegale Nella puntata di oggi Che è uscita Frank ha mentito Sulla presenza O meno del pepe Quindi identico A quello Che stai facendo Lo stesso errore Ho capito? Vero Vero Ma tu lo puoi fare Nick Cioè sono ancora vivo Non ho subito conseguenze No no Io volevo solamente Stasificare Per mettere un po' di pepe Alla sfida Quindi c'è il pepe Per lasciare il dubbio Non voglio aiutarlo Non voglio aiutarmi Però nel momento in cui Gli abbiamo detto questa cosa Gli è crollato veramente Il castello Io sarei stato zitto E avrei Sarebbe una taliscia uguale L'ho detto Solamente dovrei mettere Del pepe Alla sfida Ok Quindi Non traviare Ah ok è partito È già partito? È partito il pronostico Ok Posso dire una cosa? Vai Io ho la mia risposta E se volete La do posso dare Certo Vai Indito a ferrare la paletta E a esclamare Per il podcast Verità o bugia Quando la tiri su Inutile che ridi Sai Allora io arrivo A questa conclusione Perché Sono sicuro Che Nella Foga della settimana Tu Abbi avuto veramente Poco tempo Per strutturare Ah era sempre con me Tutto Esattamente Due di questi oggetti Infatti Sono di facile reperibilità E Tra l'altro Uno di questi È stato proprio Acquistato ieri O sbaglio Ok La paperella gialla Ce l'avevamo anche Nell'altro studio No Avevamo una paperella gialla Non è una paperella gialla Dello studio Di dov'è? L'ho presa da casa Da casa tua? È il mio bidet Poco male Nel bidet C'è una paperella gialla Quando si dava i piedini No io conosco Il bidet di Nick La paperella gialla Nel bidet Ah una paperella gialla Non so perché Ma che schifo Ma è anche poco igienico C'è che il galletto È vicino al sapone Ah ma vicino Ah ho capito Tipo una paperella Che li Che sguazza sempre Nella merda Ok Anche perché il bidet Di solito si svuota Comunque Eh vabbè ok Riempi, risvuota Scusa Nico È in crisi il ragazzo È in crisi? Eh? Eh? Come? Sai cosa stai dicendo te? Dammi una risposta Vai Tu stai dicendo? Sì Io ce l'ho Io ce l'ho palese Cioè secondo me potresti dire Solo una cosa Solo una cosa? Solo una cosa Ovvero che Nick Sta dicendo La verità Bravo Anche secondo me Di brutto Aspetta Agronostici Guarda come sei in tensione Ci sono Hai stoppato Ci devo urlare Scusate Dici È vero L'ha stoppato Allora abbiamo 61% Che dicono Che sta mentendo E 39% Che dice la verità Quindi contro di me Contrari Ma sai che cosa È che Nick Nel momento in cui Tu hai detto la verità Proprio si è fiondato Sulla scatola Proprio con la vittoria in mano Come se lì dentro Ci fosse Una sottola di Nesquik Perché comunque Sono anche le 6.40 Sono anche le 6.40 Volevamo fare 8.000 mach Però Adesso Forse lo divideremo In due puntate No 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 Faccio Vabbè a questo punto Nicholas Andiamo a sveglare Svegliamo Prego Prego Se ti ha fottuto Ragazzi Se ti ha fottuto Cavolo Non mi ha fottuto Io mi arrabbio Di più se hai preso la La paperella E la tazzina Tirala fuori Tirala fuori Quante piccole Tirala fuori Aspetta E la formica Fammela vedere la formichina Ha detto una mezza verità Sei stato squalificato No allora Brutto No allora Io non sono d'accordo Non sono d'accordo Perché Ma lui La sua ultima manche È stata basata su Una composizione Che era A tratti Sbagliata No 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 Non è vero No Non è vero No io lì Tu avevi il dubbio Perché io l'ultima volta Tu mi avevi chiesto Ma Quando l'hai pensata Questa cosa Io ti ho detto 15 minuti fa E tu mi dici È impossibile Che il bilancino L'avessi pensato 15 minuti fa Perché ce l'avevi a casa Ma perché in realtà Solo con la cacca di tonno Io ho ultimato La mia composizione Ma sì Io non avevo la paperella E avevo solamente questo Dicevo C'è dentro una formica Era una mezza verità Perché la tazzina c'è Perché la tazzina c'è Dovi guardare No voglio vedere Voglio vedere la chat Voglio vedere qua Fammi vedere la chat Voglio il linciaggio Del popolo Voglio il linciaggio Nix qualificato Guarda lì Guarda guarda Sei benvenuto nel mio team Abbiamo Ruff che dice Sei un falso Nix Vabbè ma li stai selezionando Aleph Bull dice Squalificato Invece abbiamo Salt Dick Hammer Guarda lì Calagonia Che dice Io non sono d'accordo Voglio i miei soldi Solamente chiara Ci scrive Rivoglio i miei punti E White Queen Wals Scrive Come funziona il pronostico Effettivamente Non lo so In questo momento Non si può dire Né che stava mentendo Né che stava disperando No dai qua No È una bugia Cioè io No ragazzi Allora non ci arrampichiamo Non ci arrampichiamo Il grasso non c'era E ho controllato prima Dove fosse il grasso Perché sapevo Che me lo ha detto Nel video che ho scritto oggi C'è stata la stessa cosa Con Frank È stato squalificato Esatto È assurdo L'abbiamo fatto patta Fra l'altro Nicola sei già Questa è la terza volta Che accade E anzi Mi scoccia quasi Che non ti entri Nella zucca Esatto Veramente È la terza volta Che accade Ma poi si è visto palesemente Che nel momento In cui ti abbiamo detto Quella cosa Ti era crollato Il mondo addosso Sembra che non avessi Ma certo Perché non lo sapevo Non lo sapevo E non sono d'accordo Comunque Ma ora Prato che Non ho cambiato Il colore della tazzina Ma non c'è Nic hai perso Non facciamo neanche La mia marcia Hai perso Signori Il vincitore No no E lui Ma no Lui lo deve tocare Ma intanto volevo dire Secondo me Nel pronostico Possiamo restituire A tutti i punti canale Non vale Ma si fa? Si può fare Ha detto che va bene Ricca Perfetto Ora vi restituiamo I punti canale Pronti a riscommettere Per Cesare E poi Nic secondo me Dovremmo andare a casa Adesso Squalificato Sì puoi andare a casa Se vuoi Ma infatti Secondo me Era molto più bello Questo gioco Se noi avevamo Semplicemente le palette Poi si diceva Ok Nic è dentro Fuori Space Valley Si alzava Bello E poi sei fuori Un po' All'abriatore Vabbè Switchiamo tutto Ah quindi Mandiamo un jingle Benvenuti Mandiamo il jingle No Dovremmo inventarci Mi piacerebbe avere Delle grafiche Di intermezzo Ok Come hanno i veri Programmi Dove noi Andiamo a cazzeggiare Cinque minuti Ah figo Secondo me ci farebbe Un sacco bene Tipo fai mezz'ora di live Cinque minuti Magari ti vai anche A prendere il caffettino Sì Spai un giro Ti confronti una Ieri eravamo A fare un concerto in live Sì E io ho sbagliato Tutto il testo Alla fine E appena hanno staccato Proprio aspettato un attimo Hanno staccato Per quei due minuti Di pausa E ho orato Ma vaffanculo Però è così È bello Ma Quelle storie in cui Sbagli il testo Sono ancora disponibili C'è il video online Ah c'è il video online Lo metterò nel vlog Bellissimo Perché Se io che sbaglio Faccio cazzo Sì ma è stata proprio La faccia È stata la stessa faccia Che ho visto Non sta capendo Nick No stavo pensando Alle mie paperelle Ancora Ma sei rimasto male Cioè Pensa quando ci sono rimasti male I tuoi parenti Che stamattina Sono andati a farsi il bidet E non hanno trovato La solita paperella gialla Di rito Che si sia spostata Rischia di entrarti Nel buchetto del sedere Che cosa è quella paperella Dai raccontami Sempre è stata appoggiata lì Dove c'è il sapone Ma da quando hai memoria Non galleggiante Ma da quando memoria Ma tipo Mi sono impegnato un sacco E ho vinto Non hai vinto Dai Nick Sono riuscito a ingannarlo Mi spiace Guarda Tu non mi hai ingannato Ma gli hai detto Un mentale delle cose Ma non mi hai ingannato Sì Hai detto verità Guarda C'è rancore che scrive Rancore Perfetto Però è una bella idea Ci starebbe a avere dietro Grazie Ricky Ah bello A un certo punto Figo Bello Magari con un effetto speciale E poi da lontano Pingo con una freccia Che cerca di mirare Una freccia infuocata Ah figo Come in Dino Trons Che lo scaglia Esatto Bellissima scena Tra l'altro E siamo pronti Ma posso vedertelo Ultimo commento Prima di andare avanti Morning Stranshed Scrive Ok tutto Ma ora Nick Mi fa pena Smettiamo Sono deluso Da questo Commonwealth Cosa facciamo A te la paletta Vai Partiamo Partiamo Vai Sono pronto Ti descrivo il mio oggetto Allora Ti racconto una bella storiella Un secondo Cosa è successo Ma ce ne abbiamo dei vocali Sulla paletta Ah è vero Come facciamo ad ascoltarli Niente vocali Magari però in cuffia Mentre li ascoltiamo Non sono doppi quelli Eh Non lo so Ma ci sono dei vocali Sì Ok Andiamo a scoprire Dovete riattaccarvi Ma dopo Ristaccatele Perché Rissuona Oggi va così Oggi va così Però figo Proviamo a sentire Questo Ehi Ok Ehi Potete andare Ehi Nicolas sta sicuramente mentendo Perché Ha tenuto sempre Lo sguardo fisso Anche quando Gli hanno chiesto Delle domande Che bella voce Dove lui doveva ricordare Quindi doveva Un attimo Modificare Il suo sguardo Ha tenuto sempre Lo sguardo fisso Diretto Verso L'interlocutore Infatti Interessante Un tipo Analisi Del linguaggio Del corpo Sì Come era Light to me Però Se posso aggiungere Quando mi hai chiesto Il colore della tazzina Non me lo ricordavo Davvero volevo controllare E lì Mi sono andato a vedere E ho un attimo aspettato Però è vero È vero Io Mi è venuto Sto flash In America La usano ancora La macchina della verità Cioè Qua è una prova Nel mondo la usano Nel mondo? In Italia non credo Sì Guarda una serie di parametri Secondo me Sia il battito Però anche altre cose Perché secondo me Deve essere Le onde cerebrali Quello che ti guardo Cioè Ti annusano Sì Sono anche i cani Che fatti Cioè che Capiscono La tua borraccia La tua cazzo di borraccia Oh Chiama pisca adesso Questo ha fatto male Ma che annusano Sì ma ci sono anche i cani Che trovano i positivi Al covid C'è un botto di roba Però Leggevo un articolo Tempo fa Che diceva Che noi Scientificamente Stiamo molto indietro Nel riconoscere le bugie Scientificamente Io quanto La macchina della verità Scorreggio un botto Si capisce però Però È molto più facile Per un umano Raccontare una bugia Piuttosto che Per una macchina Scoprire che Staggono una bugia Capito È molto difficile Riconoscere le bugie Scientificamente Dopo mi conosco Degli umani Ci sta Degli umani Ci sta Non siamo avanti Tecnologicamente Nick Racconti una storia Come? No è una storia In realtà è banalissima C'è un oggetto No no Non vale Ma no Ma cosa fai? L'ha già visto prima L'ha già visto prima C'è un oggetto Di cartoleria Che io mi porto dietro Dalle elementari È un oggetto Che nonostante La falsa informazione Come? No 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 Ma no Ma non si può No Scusa Perché magari Nonostante io Abbia magari cambiato Casa anche E magari anche Vari posti Camera Somma abbia Hai cambiato casa Beh sì Io dalla Dalla materna Elementare Ho cambiato casa E Ma chiedigli com'è Magari come sta Come si trova Non sei ancora andato A trovarlo Nick Ma che amico di me Io ho questo oggetto Di cartoleria Che nonostante tutto È rimasto Cioè l'ho sempre avuto lì Ok Ed è L'astuccio di Action Man Non so se hai Te lo descrivo Come è fatto È un astuccio Che ha le cerniere viola La Hai presente Come erano fatti gli astucci Quelli di quando eravamo bambini Quelli che avevano di solito Tre piani Ok Con tutte le matite colorate Già dentro Ok Vendevano già con tutto quanto Ok C'erano delle forbici C'erano dello scotch C'erano anche dentro Tu avete tenuto le matite originali? No Non ho niente È tutto vuoto È tutto vuoto È tutto vuoto E poi hanno Nelle parti Quelle frontali Le figure Le immagini Che erano orrende Sono tutte in digitale Bruttissime Ok Ok E io ho Action Man Sgranatissime Sgranatissime Esatto È vero Ho Action Man Tutto sgranato In digitale Colore Arancione E Non mi ricordo Arancione Fucsia Che però ormai È diventato talmente scuro Che sembra Blunotte E basta È questo qui Dove hai preso questo oggetto? Stamattina L'ho preso No Stamattina? Sì Io te l'ho detto che ce l'ho Ce l'ho sempre in giro Dove in giro? Ce l'ho sempre in casa Dove l'hai preso? Sulla mia scrivania Su in casa Ok Cioè tu lo usi Regolarmente? No non lo uso E perché è sulla scrivania? Perché È dov'è Ricordi È dov'è No 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 È che gira Gira continuamente Gira Gira Adesso è una troppo Lo sposto io a volte Lo metto in ordine Adesso attualmente È sulla mia scrivania Non ti occupa spazio Che ti dà fastidio? Sì ma tanto non la uso La scrivania Perché non lo si dà La scrivania scusa? Gioca solo ai videogiochi Gioca solo ai videogiochi Nel soggiorno Mi piace perché Da una bugia O da una verità Si va proprio nel profondo Della vita delle persone Dove era questo oggetto? Che cazzo Non lo ricordo Dici dalla Di casa? Recentemente sì Era nella mia camera E lo tenevo di solito Quando avevo Il letto a castello Ancora Lo tenevo sotto Il letto a castello Mi ricordo In fondo Mamassavo roba Sotto al letto In che senso? Ma tu sei mai venuto A casa mia? Certo Ok ti ricordi Il letto a castello Che avevo? Ok io dormivo sopra Mio fratello dormiva sotto Ok e poi Da mio fratello Nel letto sotto Avevi questo Scomparto Questo ripiano In cui potevi appoggiare roba Con anche i cassettoni Ok Io l'avevo sopra Dove ammassavo della roba E è rimasto lì Per eoni Ok sempre vuoto Dentro 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 Sempre vuoto Sempre vuoto Tra l'altro ecco Curiosità carina È che In ogni scomparto Per le matite È pieno di rigate Per ogni volta Che tiravo fuori le matite Minchia cosa mi hai fatto Ricordare È vero Perché quando le mettevi Le inforcavi Infatti dopo Te lo apro Dove posso vedere Che è pieno di roba Sì si slabbravano di brutto Si slabbravano tutti L'ho lanciato Che dice Cesaremente Anche quando dice La verità Ok È vero Lui ha Un mood di parlata Che sembra sempre Una minchiata Quando dice anche gli aneddoti Ci manda sempre in crisi Sì è vero Comunque Cioè Non ci ho pensato Io Ho sbagliato A guardare l'oggetto Perché tu Potevi dare dell'occhiata a me Sì infatti Posso dire una cosa È stato mega avvantaggiato Ma non mi ha mai guardato Non sono stato Allora Andiamo a vedere Magari il pronostico La chiusura del pronostico E poi dopo Ti faccio un culo quadro Va bene Scusa Hai fatto danno No perché in effetti Poteva leggere Dalla mia faccia Però ora siamo al 63% Che dice che sta mentendo Meglio che scommette Sul sta mentendo 63% che sta mentendo 37-38 Su dice la verità È molto combattuto A te cos'è che ti ha fatto Scattare L'istinto Che secondo me Quando racconto una bugia Ci mette quel pepino in più Che qua non c'era Guarda il commento In sovrimpressione ora Di Bonara È talmente vero Che non può essere vero Troppi dettagli Troppe cose forse No Però Se ce l'ha Se l'ha preso stamattina Poi mi ha detto Dove l'aveva preso Mi ha detto Dove era sulla scrivania Mi ha detto un sacco di cose Ho detto solo una cosa Ha fatto una mossa da maestro Da coglione Quando l'ha nato per vedere No Non quello Quando mi ha detto Però lì non lo so Te lo lascio scoprire Quindi mossa da genio O mossa da coglione Quando mi ha detto Dopo te lo faccio vedere Ma l'hai detto una mossa da coglione Eh lo so No Potrebbe essere Quello sì Quello è stato un po' così Però potrebbe comunque essere Un doppio gioco Quindi alla fine Non lo so Allora direi che possiamo Stoppare La prediction Cosa dice? Per ora siamo 60-40 Beh quindi la gente Pensa Ma un botto Questo si può mandare In sovrimpressione No non lo so se ce l'ha Però sono a 280.000 punti canale Che dicono che sta mentendo 200? 80.000 Ma quanti detenevano da pari? C'erano i sacchi di punti canale Ma cosa serve? Perché non fanno cosa fare Per ora niente E infatti dovremmo trovargli un senso Ma questo è figo però Per il pronostico Cioè fare i pronostici Però poi lì devi dare un qualcosa Per cui vale la pena avere Tanti punti canale Quindi tipo non so A un milione venite qua Perfetto Nel frattempo Abbiamo una testimonianza Di Serena Che dice che L'astuccio Esiste davvero Secondo me infatti L'astuccio esiste davvero Quello di Cesare Il dubbio è se ce l'ha lì dentro Ma io me lo ricordo Lei dice di no Cioè lei ha l'astuccio di Cesare Ma che esiste come astuccio Ok Comunque Pronostico finito Possiamo andare Andiamo a svelare Possiamo andare a svelare Rullo di tambruri Che? No Un paio di forbici Stava mentendo Vuoi sapere una cosa? Dimmi È tutto vero ma non è Allora Tu sei uno stronzo No tu sei uno stronzo Ho sbagliato Allora tu non dovevi guardare Cosa c'era qua dentro Lo so scusami Perché tu Dandomi Mi hai dato un botto Manforte Su qualsiasi cosa dicessi No no non è vero Questa cosa mi mandava in crisi Perché dicevo Lui adesso capta Che sto dicendo una puttanata Ma sono stato zitto Perché tu continuavi a dire Ah ma quello E allora lì ero Medo insicuro e balbettavo Però Ti ha disfunia Vuoi sapere cosa ho fatto? Ho dato una nuova tecnica Vai Ho trasferito L'esperienza di queste forbici Che realmente Arrivano dalla Non dalla materna Ma dalla prima elementare Sull'astuccio Sull'astuccio che figo Quindi tutta la sua Tutta la cosa che ti ho raccontato Era sua E non dell'astuccio A parte i dettagli chiaramente Però è più di si muovere Ritrasferisci i file Perché poi magari Quando lo raccomi È un casino Ma fa vedere Ma c'è il tuo nome scritto sopra Addirittura C'è il mio nome Scritto sopra Carino Tu le hai sempre tenute queste Momento dolcezza Queste le ho sempre tenute Ma le hai tenute perché? Perché hanno un valore affettivo Ma sei un cucciolo Ma me lo dici con una faccia? Che carino È un momento delicatissimo Tu gli dai dello stronzo Hai ciucciato Hai vinto Hai vinto Cos'è che sono? Cos'è che succede? Cos'è che cos'è? No penso che Nick Deba dire qualcosa a Cesare Dimmi È una confessione È un imperatore È un imperatore È un imperatore Aprimi Apritemi lasciare Apritemi lasciare Voglio le lodi No io le voglio leggere Sono un cazzo di re C'è il bot che dice Stupido dolce cesi Non so se ti basta Come con me Ma no Ma era solo per le forbicine Sei un re Il che Cazzo di imperatore Insegnami a mentire Sei cazzo Cazzo La chat come sta impazzendo Prete le valli Impazzendo Troppo bravo Cazzo Finalmente delle forbici In studio dice Irisanto No le ho ordinate Non è vero Esatto Non è arrivato Capretta dice Cesare merda Perfetto Grazie Capretta Per il supporto Vabbè Cesi king dell'inganno È stato molto bravo Un maestro Punto Sin the sky E chiudiamo con Martina Ersi Che dice Il king di verità o bugia È Cesare È vero È stato molto bravo Magari Te lo chiedo Perché magari sono preferenze Un avversario un pochettino Più competitivo Oppure Ti basta Cesare Che comunque la prende sul gioco Cioè non è Tu devi andare via da sto tavolo No è vero Vai via da sto tavolo Vai via da sto tavolo Sarebbe fighissimo Ti vai a sedere là in fondo Sarebbe interessante Ma vabbè ma di che felice L'unica cosa che hai fatto È stato far perdere tempo Allora adesso però Sono curioso di vedere Se dopo questa Innalzazione Di Cesi Sì Ah no ma di cambiare Dai fai te Potresti fare te Potresti partire te Frank Io Nick Cesi Sentiamo se c'è magari un commento prima Sulla performance di Cesi Yeah Mettiamoci le cuffie Che oggi si è stacchata Ah un vocale Non viene a sentire i vocali Nicola Non è che si è addormentato Sta correndo qua Corri piccolo ragazzo Che caldo che fa È un pochino Siamo pronti Ho una sindone sul mio sgabello Devi metterle ai cuffie Siamo pronti Secondo me Cesare sta mentendo Più che altro perché C'è tu un a fianco che Mi possa rispondere a ridere Quindi secondo me È perché Cesare sta mentendo Vedi Ma ti giuro Ti ho rovinato tutto Ma io ero tranquillissimo Ma io ero tranquillissimo Non ditegli così Io forse ti ho fatto vincere questa manche Per me metà del risultato Lo presti Lo presti Ascoltiamo un altro audio per favore Ancora? Sì sì vai vai Ricordiamo sono audio Che arrivano dal gruppo telegram degli abbonati Abbonatevi Entrate E mandate i vocali Secondo me Cesare sta mentendo Ma sta descrivendo un oggetto Che lui veramente ha posseduto Ha e ha usato Ma ha portato un'altra cosa Ah questa letta bene Ma tu ce l'avevi con gli action man Io non ho capito Ce l'avevo L'ho avuto Quindi hai mistiato due cose Però non ce l'hai più Un oggetto vero Un'esperienza di un altro oggetto Esatto Però io Però c'è ci sta questa tattica Io tipo nella puntata che è uscito oggi Sono stato almeno 15 minuti A studiarmi le mutande Quelle che non so poi Il bulldog E me le sono proprio studiate Le ho visualizzate Quest'altro Mi chiederanno quel dettaglio lì E ho fissato per 15 minuti Delle mutande sporche Perché? Prendiamo via la scatola E prepariamoci per Allora vado io ora Van Nelson Van Helsing Tu sei bello scarso a sto gioco Sì Nelson Sei bello scarso Ma è suoi No è vero Cioè nella storia di verità e bugia Penso che tu le abbia perse tutte contro Cesare No no C'è stata tipo Nelson sta già mentendo Sì Nelson sta valesemente già mentendo Stai già ridendo L'ha già preso sul personale Perché questa è una bugia Mi ha fatto straridere C'è un video che dovrà uscire sul nostro canale In cui giochiamo a indovina chi In cui io ho indovinato il mio personaggio Sempre qua al tavolo In cui io ho indovinato il mio personaggio Solo grazie a Nelson Che a un certo punto Mi ha fatto un sorriso A 32 denti Ho detto vabbè Nelson può essere solo lui Era Sabaku Era Sabaku Può essere solo lui Cioè Se si parla di Sabaku Nelson sorride Come se stessero parlando della sua amata Ma io non ho capito Perché di là c'è un Sabaku Con dei numeri stampati sotto È vero Ho sbagliato oggi C'è una roba È inquietante con l'immagine Magari gliela spediamo Sì possiamo spedire Potremmo spedire Comunque ringraziamo sempre la regia Le Rikki Che ci fornisce Questo grande mezzo di trasporto Grazie Rikki E i tuoi tanti collaboratori Sono in 5 La gente non lo sa da casa Ma quel carrellino lì rosso Pesa 220 kg Sì sì E poi è intrisa di tutta la voglia di Nick Di pulirsi il suo bento È vero È verissimo Perché lì ci mette tutte le sue cosiddette Prego Nelson Vabbè Si ricomincia qua È una mega manche Di verità e bugia Abbiamo di nuovo il jingle Allora guarda Veramente Dobbiamo prendere anche le palettine Dobbiamo prendere le palettine Qua ce n'è una Non ne ho nessuna Una a me e una accesa Tonno non puoi farti vedere Dimmelo Ma secondo me Io mi posso far vedere Si vede niente Può essere Allora Prego Sì sì ci sta Descrivici il tuo oggetto Vabbè Aspetta che mi ricordo Bugia Bugia di Nelson Mi ricordo che cos'è Svela Ma dai mi ricordo cosa Ma stai sceneggiata Mi hanno portati due Tre Vabbè Perché tre Due Tra le scelte Ok Vabbè Fa il fenomeno Allora Nelson hai due minuti Troppi Allora Un e mezzo Dentro Airbox Dentro Airbox Airbox Dentro Airbox Sentiamo bel fanciullo C'è un libro Ok Già qui potreste dire che sto mentendo E che porto un libro Sì infatti Perché ce ne sono tantissimi Ma qua ce ne sono tantissimi È un libro In inglese Ok Ma tu Ma tu l'hai preso a caso Sì sì Che parla di Mitologia nordica Mitologia nordica Intarsiato Doro Doro vero? Non mi hai dato saperlo Delson però No ma aspetta 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 Io lo dico dopo Io lo dico dopo Va bene Perché è un oggetto Che ha a casa lui Lasciamo stare Certo che ce l'ho Ma tutti quelli che ho Li ho portati da casa Dove li ho portati? Ah vabbè Magari l'hai comprato Sono tutte Come anche nel video Sono tutte cose che Ho a casa E Posso farti una domanda Perché io Questo oggetto Me lo ricordo perfettamente Anch'io Che colore è Il libro? Marrone Ah caspita Pensavo fosse verde Io mi ricordo Semplicemente Il mood Cosa c'è in copertina? Ne ho tre di libri così Eh no lo so infatti Quello ti confondi Con quello di Robin Hood Ah è vero Cosa c'è in copertina? Me lo riesci a dire? Grazie Tu ti ricordi? Così in assieme Così in assieme È fatto a simboli Cioè non si capisce Le rune Le rune Sono rune Non lo so È una faccia Una faccia che sarà Quella di Thor Secondo me sì Tipo Thor Alla barba Alla barba A entrambi gli occhi Se lo sta provando a ricordare Secondo me No non ha l'elmo Cioè potrebbe averlo come no Ok ma gli occhi sono coperti No Cioè l'elmo non copre gli occhi No Non ha neanche un paranaso Ah Ma è che non è proprio Una faccia chiara Ok Tipo una faccia vettoriale È creata da dei rami Ok Da delle decorazioni Come se fosse un tribale No? Sì Da rune Sarà da rune Ma se è nordico Saranno rune E Quanto è spesso questo libro? Scusa Così Quante pagine ha? Mi puoi guardare il numero di pagine? Non so cosa mi possa servire poi questa cosa Però io la chiedo Non si sa mai In realtà è per sperare si senta un rumore di pagine 270 più o meno Ok 270 più o meno non è questo Non è assolutamente È questo È questo È vero Però magari dentro è scritto molto Eh magari è carta spesso Io nel frattempo sto guardando i commenti Potrebbe essere 10 euro che dentro c'è una foto di Sabacus È una roba inerente Sabacus Farebbe ridere Secondo me Ancora chiedere Io seguo tutto quello che ho E tutto quello di cui parlerò Chiaramente è roba che ho Ok L'hai preso stamattina da casa In realtà questo è un oggetto Che è qui Da quel video là Che hai avanzato Perché non si è Ah in serio Ok E dove lo tenevi? Dove lo tenevi esatto Nel mio mobile di legno Di fianco alla scrivania Il mobile Potrebbe essere vero Potrebbe essere vero A casa? Eh? Dove lo tenevi a casa? Nella libreria Ma dove? A un libro In cima In cima in cima? Sì Ok Però scusa voi l'avete visto Perché video l'abbiamo usato? Io No allora questo libro esiste Nessuno è mio No perché doveva usarlo Per il video di Verità Ugia Ah esatto Cioè questo libro Io ce l'ho presente Non mi ricordo Però se in alto nella libreria Come fai a averlo presente? Non lo vedi in alto nella libreria No ma l'avevo visto Perché me ne aveva fatti vedere Ah cioè Ti chiama Io sono sicurissimo Sì anche io in realtà Sono sicurissimo Cioè ci sta Sì di quanto dove l'ho comprato Se vuoi No 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 Slovenia No ma io capisco che ce l'abbia Esatto Non sono sicuro se l'abbia qui Anche secondo me Cioè ci sta Per me ce l'ha qui Per me ce l'ha qui Stai già dicendo cosa di Raik Sì 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 No io sono abbastanza raro Intanto facciamo partire il pronostico Pronostico intanto E vabbè Io sono pronto a votare Anche io Anche io Per me Nelson sta dicendo la verità Anche per me Per me mente Bravo Nick 2 a 2 50 e 50 Peso Non ce l'ha qui secondo me Ha detto cose vere ma non è qui Anche secondo me L'altra volta come anche oggi Vi dico la mia tattica Mi sono messo a guardare Tutte le cose strane che avevo in casa E ho selezionato degli oggetti strani E pensato ad altre cose strane Che sempre ho in casa di cui parlare Ok Quindi non ce l'ha Quindi non ce l'ha Non ce l'ha Con questa affermazione ho capito che non ce l'ha Eh sì può essere Non lo so Boh Da capire intanto E temporeggiamo Sei stato però molto più bravo Delle altre volte Secondo me Cioè le altre volte Sì di brutto Era più deciso No sono partito Secondo me come anche il Cesi Dicendo vabbè È scemo Prendere cose da casa sua No 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 Ma chiaramente Io non avevo pensato Al fatto che Parlasse solo di roba Che facesse questo Il doppio gioco gigante Ci sta Ha fatto un bel doppio gioco È stato bravo No è stato bravo È stato bravo Sì Ma in realtà l'ha già chiuso Scusate L'ho rimasto in quello prima Ah perfetto Siamo a 63% Che punta su Sta mentendo E 37% Suddice la verità Comunque la gente Non si fida di noi Cioè Penso che siamo Dei bugiari Loro due Han detto il contrario Si sono fidati di loro È vero Sembrano effettivamente Persone più affidabili Scusate se ve lo dico O siamo noi che ci fidiamo Però lui è il maestro Lui è il campione È vero Dovrebbe sgamare Qualsiasi tuo Quindi andiamo a svelare Andiamo a svelare Lullo di tamburi Stavo dicendo la verità Sì cazzo Merda Quanto mi caso Quanto cazzo mi caso Ma è bellissimo Ma lo voglio Mamma mia Ma è stupendo Ce l'ho anche di Robin Hood Ma scusa Quante pagine sono quelle? 300 270 Ma io non ho mai visto Neanche una bibbia È spessa la carta C'è le carte di Corano I fogli d'oro Sarà bello Ma è oro vero Sarà finto Se no l'ha pagato 2000 euro Però una roba così Quanto mi costa? Secondo me costa 25 l'uno Beh ci sta Sarebbe figo Avere un libro così Ma scritto a mano Da un prete Del 1200 Bello Però penso costerebbe Però vedi Era palese che Ma cosa fai? Niente Sbadigliato È palese che Che dice sia vero Quindi è ancora sgamabile Quindi Nelson Non si è migliorato per niente Beh Noi ingannati due Poi vediamo C'è un'altra manche dopo Comunque Andiamo a vedere Che cosa dice la chat Prima di andare sui vocali Abbiamo Blore Che dice Questa volta Nelson È stato un grande Cazzo Un grande cazzo Avevo letto così Avevo letto così Anche Tenirutalga Mi ha imbrogliato Nels E poi ci sono un sacco di commenti Che dicono Che l'avevo fatto vedere In un vlog Effettivamente sì Ma perché Ho portato appunto cose Ma io volevo fare Cioè il mio interesse Va tutto sul cesi Nel senso Ma tu come fai ogni giorno A Guardarti lo specchio No no Non guardarti lo specchio A vivere Vedendo tutta questa gente Che mente E che dice la verità E tu sei il dio della menzogna E riesci a capire Quando un Io non sono il dio della menzogna Cioè vabbè Di questo Insomma di questo gioco Hai questo talento Di capire se uno mente Oppure no Beh con me non aveva capito Io ho sviluppato Un sesto senso Su Cesare Ma sei ancora lì a dire Io dico che non aveva capito Ma squalificato Però non aveva capito E' ancora lì che pensa Di aver vinto la menzogna Adesso E' Nicolas Stavi raccontando qualcosa Sì ma Continuo Beh ma puoi raccontare No io sono curioso Ho sviluppato un sesto senso Su Cesare Per quando inizia a romanzare Ah ok Quando gli aneddoti partono Comunque è ancora in modalità Verità bugia Sì è ancora in modalità E non si stacca più Rimane la parte giustamente Guarda Ma poi c'è anche Gabriele Che dice Cesare regna sempre Gabbo Grazie Gabbo Sempre Gabbo Grisci Grazie Sarà bellissimo vedere Il rilascio di dopamina In Cesare quando vince E' una roba che mi È vero È un po' di triplo Che in una persona normale Tipo A me e io sono zero C'è il zero Niche ha un piccolo sbalzo E poi vedi Andiamo ad ascoltare Qualche commento Ah Aspetta Qualche vocalino Vocalegno Ma sai che figa Sta cosa che mi volta Di attaccare le cuffie E' molto figo Ma sarebbe anche figo Che la regia con un megafono Ah è vero Ti dicessi vocali Figo Sentiamo È ovvio Che tutta una messa in scena Dai Cioè Controlla troppo spesso La scatola Soprattutto per quello Io lo penso Inganato eh Non sembra per niente Veritiero Quello che ti sta dicendo Ti ho ingannato Ma te l'ha detto Con un tono Capisci La gente Quando fa esclamazioni Così sicura di sé Alla fine La prende in quel posto Ma guarda Io ti dico Sarei solo Contento Per aver ingannato Questo Sì no Ci sta Sono contento Questo ragazzo Perché Era veramente sicuro L'hai fatto L'hai proprio sbagliato Vabbè Più che altro Col fatto che ha vinto La minoranza Nel pronostico Ha vinto un botto di punti Tipo più del doppio Di quelli che avevano puntato Ma che figo Ah Mega gioco d'azzardo Perché li ho ingannati tutti quindi Ho ingannato la maggior parte Esatto Figo Sono bravissimo Infatti sei stato bravo Complimenti Stai guardando la temperatura Prego Quindi dal resto Toccherà a Frank Esatto Quindi Lanciamo lo spot C'è il problema di Frank Che su questo gioco Non ce la fai Non ce la fai C'è il problema Che tu dall'età di Tipo tre anni Non hai mai detto una bugia No no Ho smesso da Ma hai i tuoi genitori No veramente Hai i tuoi genitori Mentivi un botto Mentivi? Beh quando saltavo scuola Non è che dicevo Ho saltato scuola Io dicevo sempre la verità Anche su quelle cose No io ho imparato A falsificare la mia firma La firma dei miei Prima superiore Ma una cosa gravissima Frank Non lo sarei mai aspettato da te È giustificazione Ma non guardano le live È vero Penso di sì E lo sanno già Sì sì Ma la tua onestà Cioè perché comunque Secondo me adesso Sei una persona molto onesta Nella vita di religione Che ti arriva dal fatto Che ti stai cercando Di purificare Da quel peccato Il carico E falsificare la firma Di genitori Non è un problema No per me È assimilabile al reato Secondo me Non è un reato Però Cioè quando non vai a scuola Perché vuoi andare Non so A giocare ai videogiochi Col tuo amico Sì Ma perché scrivono Frank come Andreotti In chat Cosa ha fatto? Cos'è ti eri un attimino bloccato? No 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 Ah ok No non è che faceva lui Una falsificazione Delle Beh Andreotti è un criminale Risa pure Condannato più volte Io ancora no Vabbè Frank Vediamo Se ti sei un attimo ripreso Sono pronto Passiamo da Mattarella Grande A Andreotti Mi spiazza Ci siamo Ci sono dei pesci E effettivamente Bisognava illuminarlo Il box Perché non è che si vede Però mi immolo Con la mia testa Perfetto Io spero che tu sia Un po' migliorato Frank Perché veramente Ha delle difficoltà gigantesche In questo gioco Ma in realtà Frank ha difficoltà In qualsiasi gioco Sia perché magari Non ha i tempi giusti Per reagire Cioè lui tipo A risico però A risico sei forte? No Però Il computer lo va Perfetto Raccontaci il tuo oggetto Frank Allora Io ho Un Oggetto Doro No un oggetto Dorasse Diciamo E Sono Avete presente come ruotano i pianeti No? Che sono le orbite Queste cose qui Quelle sono degli ellissi Questi invece sono dei cerchi Uno incastrato dentro l'altro Ok Ok E dorati Ma è tipo un rompicapo? No no Non è un rompicapo E sono tre Tre dischi incastrati E tu li puoi Mettere tutti Uno di fianco all'altro Ok Quindi diventa una roba piatta Oppure li puoi muovere Oppure li puoi muovere ognuno Su due perni Ok E quindi c'hai questi Ma cos'è? Un antistress? No non è un antistress È una collana Ah una collana Infatti questo ha collegato Una catena Anche lei Color d'oro E quindi si può indossare Cioè che secondo quello Che ci stai facendo vedere Visualmente È una collana Grande così Perché No no È un po' più È un po' più Perché cercavo di far capire Ma è un po' più piccolina Sarà tipo Quanto sarà grande? Dimmi te Basta Così Così Un po' di più Un po' di più Ah il giratempo Il giratempo Ah ok 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 È tuo questo giratempo? Sì Ok E ce l'hai da quanto tempo? Un anno Te l'ha regalato per casi in live? Non me l'hanno regalato in live Te l'ha regalato qualcuno? Sì Ok Ti chiedo di controllarmi la catenina Cioè è una catenina Che semplicemente è già chiusa No la cosa bellissima Che mi ha sorpreso un sacco È che Quanta enfasi Da una parte ha un cerchio Ok Dall'altra ha una specie di cose Un bastone Tipo una cosa dritta Non so come descriverla Ok Non so bra E quindi tu devi infilare La parte dritta Ok facciamo questo Madonna mi sta facendo Facendo uno schema Ok qua c'ho la cosa Tondo Tu devi infilare Questo robo qui Ok Entra tutto E poi si incastra E non esce più Tu sei rimasto sorpreso Da questo meccanismo Sì Ho detto cazzo Che è robo intelligente Proprio da Harry Potter Così magico L'hai preso stamattina Da casa questo oggetto? Sì L'ho preso stamattina Dove lo tenevi? Lo tenevo sul comodino Cioè tutto il tempo Sul comodino? Perché era lì Ancora dalla scorsa puntata Normalmente è dentro Il comodino Ah ok Infilato nel cassetto Però che strano Tu non metti a posto Il tuo comodino L'hai tenuto lì Per tutto questo tempo Per un mese L'hai tenuto sopra Il comodino Ti stupisci che io Non metta a posto Eh non metta a posto Il tuo comodino Ma che tu devi metta A posto il mio comodino L'unica cosa che mi fa Storci al naso È che so che Frank Gli fa schifo Harry Potter Film Sì E il giratempo E il giratempo Beh vabbè Ti si guarda il film Perché lo vedi Perché no Non è vero Non c'è nei libri Sì ma non ti compri Un giratempo Se vuoi fare tante cose Alla volta Poi glielo ha regalato Si posso chiedere Un dettaglio di questo giratempo Sul giratempo ci sono delle incisioni C'è scritto qualcosa Sì c'è una scritta Ah ok È molto lunga Ed è in inglese Inizia a leggerla allora È un po' complicato Raga fornello a induzione Ci concentra Sul sorrisetto di Frank Che dice Quel sorrisetto Mi inganna moltissimo Tu puoi anche decidere Comunque di non toccarlo L'oggetto Cioè tu non devi Per forza stare Infatti io non è che tocco Guardo Ti dico un po' Cosa Perché metti che tocchi Non so Si sente uno Metallo Un tintinio Non si vede niente Perché essendo molto piccolo Il box è grande È molto in giù Quindi Quindi non leggi Quello che c'è scritto No non riesco a leggere la scritta Oh Cioè dovrei forzare Siamo tutti migliorati Io sono Io sono sicuro Sto oggetto Anch'io Anch'io sono sicuro al 100% Non però in quella box Dove l'hai messo stamattina Per venire qua in studio Ah bellissima questa cosa Praticamente Cosa è successo Che stavo No l'avevo infilato in tasca Prima di uscire Non si rovina però No no Intanto la collano In solito sta al petto C'è stato un periodo Che la tenevo anche al petto Però un po' Me lo sono infilato in tasca E quando sono arrivato qui Ho parcheggiato fuori Stamattina Mentre camminavo per strada Comincio a sentire Staccatina che sbatte Contro il ginocchio Praticamente ho scoperto Di avere un buco in tasca E la catena si era infilata Nel buco Quindi c'era la parte tonda In tasca E la catena che scendeva E sbucava da sotto i pantaloni Ok Possiamo vedere il buco Dei pantaloni No No non lo so Cioè non l'ho tirato fuori la tasca Però Siamo un gioco di prestigio Sì Ora esce un coniglietto Vedi che c'è un buchino Ah è vero c'è un buchino C'è un buchino C'è un buchino C'è effettivamente un buchino C'è un piccolo buchino Interessante Ma se tutto questo fosse successo Un altro giorno Eh anch'io ci ho pensato Allo stesso tempo Però la casualità Del pantalone Questi pantaloni Sono pantaloni corti Che indossa da Due settimane Se da bene No no È vero una settimana Una settimana No non dico continuativo Però All'oggetto a casa Ma non nella box Potrebbe infatti Essere di successo Già Sì potrebbe essere Però a me questa domanda Di Nick mi è piaciuta Però sai cosa Secondo me Frank Ha capito Che lui nella vita Può dire solo la verità Cioè secondo me è arrivato Alla concezione del dire Non li trufferò mai Però Vado Sperando che Pensino che possa essere Una bugia Quindi secondo me Ha detto palesemente La verità Anch'io dico verità Anch'io dico verità Tutti Tutti verità Tutti verità Andiamo a vedere il pronostico Se ci avessi ingannati tutti Sarebbe un colpo di stato Usciamo tutti Oh pronostico Di 52% Sta mentendo 48% Verità Spacchelle Posso dire che è sempre Sul mentire comunque Sì è sempre sul mentire È sempre sul mentire Però hanno puntato Pochissimi punti Ah pochissimi punti Mi fregava più nulla Forse non ne ha più Non era la macchina Ma perché non avremmo scommesse troppi Nelle scosse Ah quindi Che gli aventi non li usa più Se li tiene lì Potrebbe essere O scommettono solo quelli Che hanno guadagnati punti Potrebbe essere E niente Volete Andiamo a vedere Andiamo a vedere Svegliamo Non ha detto la verità No Nick Nick hai colpito Veramente duro Con quella domanda Dici Sì sì È lei Ha detto la verità Sì Non so menire Perché all'inizio Non ci dicevi Ho una gira tempo Perché volevo Arrivarsi con calma Anzi volevo Non dirlo È stato bravo È stato bravo C'ha questa cosa Qui fighissima Sì È geniale No strabello Ma sai cos'è È il simbolo Di Domeni della Morte Può essere Manca il triangolino Manca il triangolino Però potrebbe essere Comunque io No io fino alla domanda Di Nick avrei detto Che stavi mentendo Anch'io Anch'io Quella sarà troppo Troppo Andiamo un attimo Nella chat indignata E faccio vedere Solo un commento Di CG Fire Che dice Nick H Sherlock Sì sì È stato veramente bravo È stato veramente bravo Secondo me ho sbagliato Anche a raccontarvi Tutti quei dettagli La tasca No poteva essere Potevi non raccontare Se non lo raccontavi Io avrei avuto Molti più dubbi Sai che cos'è Secondo me Non è tanto Non è stato tanto Il difetto Nel racconto di Frank Ma nel non capire Che sei una determinata persona Quindi noi ti conosciamo Sotto un certo punto di vista E quindi tutti quei dettagli Con la tua persona Non lo so Collegare così velocemente Il fatto che lui abbia Un buco Nella tasca dei pantaloni Alla catenella È impossibile Cazzo O sei un Ci sta molto bene A questo punto Io mi sono messo D'accordo con Pingu Che io faccio così E parte una transizione assurda Non lo stai dicendo Veramente? Oh mio dio Oddio Ci scusiamo con chi soffre di crisi epilettica E siamo qua alla finale tra Nick e Cesare Stasera capiremo chi è il vincitore Perché è tornato indietro È tornato indietro No, sono tornato indietro Non fare tutte cringe Con qualcosa Vabbè, niente Toccatone MASH banale per il Frank Che tocca a me Sono proprio uno stronzo È bruttissimo comunque Vederla I messaggi della gente Che o esulta Dicendo che Ha vinto un sacco di punti Oppure si lamenta Si lamenta per i punti Un giorno Non puoi mettere l'occhiella al sole Fra No Mentre cambiamo l'oggetto Ascoltiamo i cosi telegram Oppure no È Riccardo Che deve fare la stessa cosa Però mi fa mega ridere Che urlino dalla regia Lo vorrei sempre Ma guarda che bello Un po' tipo Il 18 Potremmo iniziare Prego Ho una giratempo Proprio davanti a me Sto controllando E i dettagli Sembrano corrispondere Pazzesco Leggevo la scritta Era top C'era gente Che leggeva nei commenti Che diceva Che era impossibile Fosse verità Perché era impossibile Che tu avessi una giratempo Ma infatti Io all'inizio Stavo per sbagliare Perché volevo dire Che io avevo davvero Cioè che ultimamente Io riuscivo a fare un botto Di cosa alla volta Che riuscivo Ad andare in giro Perché avevo Una giratempo vera Ma è che la gente Non si immagina Per un anno in studio Con una bacchetta magica Che fai finta Di fare le magie Ma è vero C'è vero E infatti cavolo Ci si poteva arrivare Effettivamente Con la bacchetta Però Torni che parte Con gli occhiali da sole Allora Non c'è nessun Allora no Non c'è nessun regolamento Su gli occhiali Dovresti toglierli Dovresti toglierli A poker si possono Tenere gli occhiali Non è vero Ma questo non è poker Si è vero No poi se la gente Ti vedesse in toto Che c'hai le crocs E i pantaloncini No dai dai No No Sono storici quelli Ha rotto gli occhiali A metà Frank Ma Occhiali da sole Ma ho fatto una fatica A sole Veramente ti sembrava Che si spaccassero Io pensavo Si fosse rotto Una mano Frank Verano ma sono durissime Sì sono mega duri Poi se li potrebbe Comunque rimettere Perché non sono rotti Nel tutto Se gli è rimasto Vabbè Allora Non ho la paletta Non ho la paletta Tony dai la tua paletta Frank Non è il suo oggetto Sono caduto Mi era confuso il ragazzo No no Buttali via Buttali via Come si aumenta La luminosità Eh ti giusto Un po' che androide È complesso Però non così tanto Guarda con che faccia La barretta La barretta E tu aumenta La luminosità Ma come L'energetica Nelson Cazzo si l'iPhone Un po' sei fottuto Difficile Prego Guardami negli occhi No Non c'è Nel suo ragionamento Guarda Non c'è Nel suo ragionamento Scusa Allora Dentro Alla box Sì ma Sembri pentito Cioè Ci sono Quattro Salsicce E ognuna Di queste salsicce Ha un volto Cosa significa Che ha un volto Nel senso che Queste salsicce Hanno Un volto Sopra Hanno delle faccine Sì ma L'hai disegnato tu? Non l'ho disegnato io Cioè erano Già delle salsicce così C'è ancora la testa Del maiale attaccata No no Non c'è la testa Salsicce vera o finte? Sono naturalmente Salsicce finte Di gomma Di gomma Ma dove le hai prese queste salsicce? Le ho prese in un negozio Per animali? Qua Bologna Ma quando? Nel momento in cui abbiamo staccato Dalla puntata Sono andato velocemente Cioè tu prima Quando sei andato via Sei andato a spendere dei soldi Comprando delle salsicce Ho preso Scusa ma prima C'è mandato un vocale Dicendo Sto andando a casa A prendere l'oggetto Io ho preso E non è andato a casa Io ho preso Io ho preso Io so che lui non è andato a casa Come fai sapere? Tu? Ho preso Sei andato In un supermercato Veramente? No lui secondo me È andato in un negozio per animali Ah Non sei andato in un negozio per animali Dovevi prenderla a lettiero? Dimmi la cosa Queste salsicce Se le squicchi Cosa fanno? Fanno Un rumore Potremmo sentirlo Fanno rumore Non si può sentire Non so se è un gioco per cani Fanno rumore Non sai se è un gioco per cani? Non so Scusa Tu dovessi andato a comprarle queste In un negozio a Bologna Generico In un negozio Avrà un nome Questo negozio Ora non mi viene in mente Se l'ha fatto per depistarmi Ma prima della live Lui parlava con Ricky Parlando di Sono stato all'esse lunga Ah Beh lì hanno comunque Articoli per animali Hanno giochi per animali E poi è stato via un botto Però non so Se l'ha detto Pensando che io stavo sentendo E quindi Per depistarmi Io sono andato più volte Nell'armadio delle formiche Per ingannare tonno Ah sì Stai lì appostato Ma che infame Quando venivi Scusa Io rompiamo il gioco Ma sì Ma infatti Ma quindi il gioco era partito Tipo tre ore fa Sì c'erano delle indagini Ma cosa vuol dire? Io ho iniziato il mio gioco Un mese fa Quando ho portato gli oggetti Ma vi spiegherò Poi come Ha un nascondiglio segreto No vi spiegherò poi come È un po' mindfuck Ok Ok Wow Ma i colori di queste salsicce? Devo controllare Dimmeli tutti La prima Bordo marrone Dimmeli mentre le guardi Eh no Non al microfono Hai ragione Bordo marrone La seconda? Bordo marrone E la terza? Bordo Cioè sono tutte uguali Salsicce Sono lo stesso articolo Ripetuto quattro volte? No Cioè la faccia sopra cambia Ho una domanda Come fai a sapere Che sono salsicce E non viustel? Ah Ho ipotizzato Ho ipotizzato Che fossero Amicatelli? No Come sono fatte le facce? Una è identica a te? Ma come sono fatte le facce? In che senso? Sono fatte disegnate? No Sono un po' in 3D Ah In 3D? Sono un po' in 3D C'è anche il naso Sausage party Il film Sausage party No no Sausage party Che cos'è? Sausage Cioè dici che sta mentendo Quello dove si splatteravano No Sono i giochi di quel film No Hai detto che sono 3 o 4 Salsicce 4 No prima erano 3 No Era sempre state 4 Sempre state 4 Perché hai toccato la scatola adesso? Cosa vuol dire? Come per provare Che il Cenefostore davvero 4 No Posso dire che c'è un commento interessante Che chiede ma le salsicce sono salsicce o salsicce? Io dopo che sapevo salsicce con la S però Le tue come sono? Con la S o con la S? Sono salsicce Qua a Bologna è salsiccia comunque Salsiccia No Salsiccia Io ho finito un po' di gente a salsiccia Io comunque ce l'ho Utilissimo Chiamami pure Alex Le ho cercate e si esistono Ma scusa ma nessuno si è facilitato con i commenti Certo Li mandavo sempre quando c'era A lui guarda che Sì ma qua c'è uno che è andato a controllare Scusa Ma li manda Come quello che mi hanno detto esiste la frucia di Action Man Sì ma questo commento qua è uno che ha fatto un'indagine di mercato Vabbè è successo anche a me Magari qualcuno ti ha visto Alessia Lunga a comprare queste cose Ah beh sarebbe bello Sarebbe bello Sarebbe una prova visiva Nelson che ha pagato una persona per seguire Io Vedo tonno sudare Dico questa è la verità No sudo perché ci sono 29 gradi Che è diverso Non lo so perché stava attuando un po' la tecnica dell'insicuro fasullo Sì è vero anche l'idea di non guardarci all'inizio di guardare il vuoto Perché ha iniziato a fissare il vuoto e a parlare Come se fosse mega impaurito Cioè alla fine Intanto è partito È partito al pronostico Così È già partito? Sì sì è partito Ok O io sono pronto per votare Penso tirerò a caso Ma sono pronto Anch'io Anch'io Vai votiamo 3 2 1 Io dico mente Anch'io dico mente Mi ho spaccati Cesare dice verità E Nicolas dice verità 2 e 2 Cavolo Invece in chat Si stanno pareggiando Stanno 46-54 Sta vincendo dice la verità Ammetto che pensavo di aver floppato di brutto Cioè pensavo a un certo punto ho detto ho floppato completamente Però avervi spaccato Boh Sono molto soddisfatto Un po' confuso Qualche considerazione Qualche considerazione Che ormai non so più come giocarmela Cioè non so più veramente come Come arrivare a questo banco O no Regà Cosa? L'hanno visto L'hanno visto Aspettate che mi si è impallato il tablet No ho sbagliato Emanuele Eccolo Ero io la cassiera dell'S lunga È vero Questa cosa non è vera Sembra troppo Questa è troppo L'hai comprato all'S lunga? No Ma poi scusa Quindi era un blef Quello L'hai comprato No Era un blef Era uno sbaglio Posso dirti una cosa? Non vuol dire scusa Che volevo dire un altro nome E ho detto S lunga Perché ormai è la mia casa Ma dai Quindi hai mentito Hai mentito No non hai mentito Aspetta Aspetta Pronostico dice 47% sta mentendo 53% dice la verità E sono No vabbè è un po' buon 146.000 punti A 167.000 Andiamo a scoprire Tonno Nero ha mentito Signori Secondo me ha mentito Cavolo Vecca ha mentito Ho detto la verità Sì Ti giuro Ti giuro Ti giuro vecchio Cioè Sono illegale sono Sono illegale Ma che c'è il ping? Ma è un gioco per cani questo Guardate Non so se Pingu Lo può far vedere È bellissimo Nelson Perché ha gli occhiali Possa essere Nick È un gioco per cani Questo sembra un po' Frank Sì è vero Sono un po' triste Perché quando ho capito S lunga Pensavo che dovessi portare Le cose da mangiare Ah speravo che avessi portato Lo spuntino Speravo avessi tipo un piatto Del giorno Non la sono giocata male Però voi due siete veramente forti Mera Cioè voi due Finalisti mica per niente Sì Cavolo Vabbè lui abita con me Quindi fa Abiterà Abiterà Ci stiamo lavorando Ma è un gioco per cani È un gioco per cani Lo vuoi per ciube? Sì Sta figo Non so se però fa No Non fa squiby Ma per tu Però No palese Era palese Ma come hai fatto a capirlo? Cioè da cosa Perché esageravi un botto Ok Esageravi un botto Io pensavo esagerasse Per illuderci Cioè tipo Per fare il tuo discorso Ma in realtà era una fregata Però no Io ho tempo Eh? Avete dovuto entrambi la stessa tecnica Di portare un oggetto assurdo E descriverlo perfettamente Perfettamente Sì è vero È vero Comunque vado nel panico Perché ormai non so più Faccio un attimo una telefonata Ma lascialo in pace Ma lascialo in pace No dai Ma cavolerino Ma scusa Ma cosa so Gli avrà tolto un commento Spero li butti giù Buttali giù il tele Buttali giù No rispondi incazzato Pronto il telecom Italia Io come faccio a vedere i commenti Se non ci sono i commenti Ma sto selezionando un sacco Ciao Questo è boba Questo è boba Ma hai buttato giù Ma ti sembra? Andiamo a vedere la chat Che cosa dice Andiamo a vedere Lego di Cesare E a mille Scrive A che te ti torro raga È bello non perdere Adesso ho capito Cosa si prova È un Mia sorella Alessia Ah Perde se No non è mia sorella Ah non è mia sorella Ok Sì Lo datemi Lo datemi Seguo quello che dice Cesare Dice That's Diddy È ufficiale Non so giocare Dice Assu Un'altra mia sorella Non sei l'unica C'è un sacco di gente Che invece era stata fregata Per l'agitazione di tonno Cioè l'agitazione di tonno Ha spezzato Sì Ha spezzato Tra quelli che dicevano È agitato Quindi sta mentendo E quelli che dicevano È agitato Io c'è da dire una roba Io comunque Nella vita mente un bot Tu potevi adattare La stessa tecnica No non è che In realtà non è che mento Cioè non posso fare il mio gioco Perché io mi stifico Cioè nel senso Prendo un po' di reale Ci metto dentro Un bot di scontanate E quindi sarei squalificato E quindi sarei squalificato Non riesco a fare quel gioco In cui riesco benissimo Di solito E quindi Mi è più difficile Inventare una bugia totale Dal nulla Non lo so È difficile Non è facile Andiamo ad ascoltare Tre note audio Tre Non una Non due Non tre Ma tre Ah ma adesso Ah no ok C'è sempre ritorno È sempre in ritardo Prego Prego Secondo me sta dicendo la verità Perché io Ho in mente queste salsicce Le ho già Se li aveva anche lui Ascoltiamo un altro Ah avevo dato un commento Ma scusa Tonno ha sudato pure l'acqua del battesimo Sì è vero Ma è per il caldo Non va capire Prego Secondo me Tonno sta mentendo Sia perché ha un po' il sorrisino di prima Quando stava mentendo Cesare E anche perché ha scambiato Uno sguardo con Nick Quando gli ha detto Che gli aveva dato ragione Come se stesse a dire Oh ma che cosa stai a dire Ma io scambio sempre Sguardi con Nick Esatto Sì però tutti in questa live Perché si mandano i bacini Sentiamo l'ultimo L'ultimo Eran tre È tutta la puntata Che ci siete voi Che dite la verità Ma la fate sembrare una bugia Avete fatto tutti la stessa cosa Tonno tu stai dicendo la verità Basta Sego No io ho mentito Ma è vero Cesare ha mentito No Cesare ha mentito Però è vero Ho notato che tendiamo a dire la verità Perché è più facile Siamo più deboli Sì certo Siamo più deboli Quindi cerchiamo di dire la verità Però dai Ragazzi Chiudiamo con un lode all'imperatore Chiamatemi pure Alex Perché secondo me Non abbiamo tempo per andare avanti No abbiamo tempo Non abbiamo tempo Però è molto figo È molto figo Perché senti il feedback delle persone Che ci seguono I vocali I pronostici Sarebbe fighissimo anche un primo piano In modo tale proprio che vedi la gocciolina di sudore Ancora più primo piano Non abbiamo abbastanza soldi Per avere i primi piani Sarebbe figo anche un rallentatore magari su Un replay su gente che sbatte gli occhi Sulla pupilla che si dilata Per il replay non mi ricordo a che punto eravamo arrivati Ma sono in cantiere Cosa vorresti? Dici una cosa che vuoi È a tuo piacere Sai cosa potremmo avere? L'orologino che ti prende le pulsazioni Durante tutta la mani Che ti dà sotto la grafica C'era proprio figo Gli elettro Sai che è fattibile Potremmo Si attacchiamo Gli elettro Se un'azienda ci segue Vuole darci Cos'era il TESMED Quelle robe No vabbè Quelli ti stimolano Vabbè qualcosa Gli addominali Qualcosa da attaccare Comunque secondo me Il gioco portato in live È molto carino Sì però io ci ho fottuto Cioè nel senso Anch'io vorrei giocare Io ho il mio oggetto di là E voglio Ma tu tienilo Ma possiamo Tienilo Facciamo un'altra live Potremmo fare una live extra L'organizzeremo L'organizzeremo Sì sì presto Sì Così io ti vado a vedere l'oggetto Che tanto lo otterrai lì Per tutto il mese E così mi preparo già per la sfida È morto Bene quanto è grande No raga Comunque prima volevo dire una roba Sul mio oggetto Che io quando ho preso Quell'oggetto lì Quelle salsicce Con le facce Per me è proprio un oggetto famoso Per un gioco famoso di cane È bellissimo È un colore bellissimo Quanto costa una roba del genere Meglio che non te lo dica No quanto costa Meglio che non te lo dica No dai dimmi No meglio 20 euro Vabbè Che cazzo esiste Tu hai speso 20 euro 5 euro a faccia Era in sconto 15 Ah vabbè bravo Un occhio allo sconto Facciamo un applauso a Cesare Un applauso a Cesare L'imperatore E Dio di Nick Ma scusate Cioè quindi Adesso chi sta vincendo In questa mamma Allora perché questa è Un po' zoppa Nel senso che in realtà Nick e Cesare sono No ma loro l'hanno fatto Prima ha vinto Cesare Sì esatto Sono dell'altro tour Adesso chi sta vincendo Tra di noi Tra voi tre No tra tutti e cinque Ah ok Perché comunque Fa i punti anche quando Aspettate perché Forse Riccardo ha contato Un lato però Tonno ha sei punti Tonno ha sei punti Nelsa cinque Cesu tre Nick due Frank zero Tu Cesu Ma tu non hai indovinato nessuno Scusi L'ho indovinato tutte L'ho indovinato tutte Mi è stato detto Ah c'è stato Un misunderstanding C'è stato un misunderstanding Quando fai Quando fai La G Due punti Prendi due punti Però io non ho Una mangi giocata Esatto Ma infatti sta andando Sì sì Ma lui è a zero perché No lui non è a zero Io sono a zero Ah no perché giustamente Io ho fatto uno due tre Sì sì Lui sta andando bene È che dobbiamo chiudere Con il giro Con me e Nick Che magari potremmo fare In una prossima laggio Sì perché Io ho ancora l'oggetto Sì lo facciamo Ma no quello lo devi tenere Per quando vai in finale Nelson La cosa era quella Perché metti che tu vai in finale Hai l'oggetto pronto Ah ok Sennò dovevi portarne uno Hai ragione Arriverense Ciao Ciao